buongiorno a tutti volevo dirvi che oggi parte un'iniziativa che si chiama stream to unlock su spotify più ascolterete il brano sconosciuti da una vita più si riempirà una barra al raggiungimento completo della barra ci sarà una sorpresa su spotify per voi vi metto qua il link streamate più che potete buongiorno amici volevo mostrarvi senza vergogna la mia tenuta ginica per allenarmi pancera per sudare vestito da backstreet boys senza vergogna mi faceva notare comunque c'è della consapevolezza fashion in questo abbigliamento perché vedete nero nero pantaloncini con le righe nere e bianco ecco puntualmente quando noi ci alleniamo arriva lei con la pallina a rompere le palle contenta matti noi ci dobbiamo allenare lì però scusi scusi è stata bandita dall'allenamento ed è triste hanno comprato un apparecchio che tipo hanno comprato questo apparecchio miracoloso che dovrebbe far sembrare e non è adivio dillo perché sennò tiragniz come fa il tiragniz come di consueto ogni halloween faremo la nostra foto col costume attenzione spoiler è giusto uguale all'anno scorso un po' a soffoco per quanto tempo devo tenere respiro? è ancora in posto per quanto tempo la facciamo la foto? non è che rimaniamo così però ma se è vestito da Antonella che erici quando era piccolo eri il mio cantante preferito ma chi io? ah quando era piccolo ero il suo cantante preferito però anzi come stai facendo ma chi è la disturbatrice matti no non va più sei una massaggiatrice fai anche tu stretching ragazzi stiamo vestito tardi per halloween cioè è un business rovella no ma la paura di questi due questo è il pa- i miei 10 sessuali stanno iniziando un porno amatoriale e questo sarà il padre di mio figlio ciao bellezza salutami rovella rovella amore amore no ma la bruttezza ho passato uno splendido halloween in studio sono le due e mezza big party dovete sapere che il mio caro amico Klapis è vegano ed è per questo che insomma non ci vediamo da un paio di tempo cerchi sempre di non dirlo è troppo in pubblico eh basta però ha fatto una playlist che si chiama vegan artist ma l'ho fatta io vegan artist e adesso scatta la domanda ma come cantano i vegan artist? e adesso sentiremo vabbè ma è Paul McCartney è un vegano questo è Paul McCartney mentre mangiava la quinoa ma solo tu ormai fai le interazioni vegano anche il bling 182 il bling 182 vegano il bling 182